ed ecco l'occorrente per creare la nostra decorazione personalizzata per il natale una sfera di vetro trasparente così come questa di qualunque grandezza voi vogliate un recipiente in cui raccogliere il glitter che useremo un pezzo di carta per creare una sorta di imbuto per versare il glitter glitter dei colori che preferiamo io ce l'ho qui il rosso e dorato perché la mia sfera sarà di questo colore della colla vinilica dell'alcol dei tovagliolini di carta o una pezzetta è un pennellino abbastanza piccolo per essere abbastanza precisi in più ci occorrerà una penna di quelle permanenti sapete quelle per scrivere sui cd quella del colore con cui vorrete fare la personalizzazione della vostra pallina iniziamo subito come prima cosa togliamo momentaneamente il gancetto dalla nostra pallina e mettiamolo da parte quindi prendiamo l'alcol e con una pezzetta puliamo perfettamente sia la pallina che le nostre mani e adesso con un pennarello permanente vado a disegnare la mia iniziale potete farlo a stampatello io farò questa così che l'iniziale appunto di enzo e lo farò con un pennarello permanente che scriverà sul vetro però ecco vedete lo prenderò a punta larga ok e vado a scrivere io lo faccio a mano libera ma se voi non sapete farlo a mano libera potete tranquillamente segnarvi l'orma con uno stencil cioè crearvi uno stencil ritagliarlo e quindi tamponarlo o passarci sopra col pennarello e voilà questa è la mia e non so se riuscite a vederla ma tra un po sarà tutto più semplice lasciamola asciugare due minuti una volta disegnata ed asciugata si l'iniziale con un po di colla vinilica stando attenti che sia abbastanza fluida ricopriamo tutto l'interno della nostra pallina e facciamolo sin dall'imboccatura ben bene allora verso dentro rotteiamo io preferisco usare la vinavil perché tanto da asciutta torna assolutamente trasparente e mi fa vedere dove si è depositata cosa che in realtà con una colla trasparente risulta più difficile perché potrebbe sfuggirmi qualche parte quindi faccio andare bene la colla apro il contenitore e faccio defluire l'eccesso di colla all'interno del contenitore preparo una sorta di mini imbuto inserisco il mio imbuto e verso una buona quantità di glitter un po si adagirà sulla pallina non importa un po dovremo farla andare su tutto così e tiriamo fuori tutto ciò che non rimane attaccato quindi facciamo andare su tutto e tiriamo fuori il disavanzo il glitter che verrà fuori ovviamente non buttatelo piegate la cartina e riversatelo dentro mettiamo a testa in giù lasciamo asciugare perfettamente e andiamo a pulirci le mani il mio glitter all'interno non è ancora del tutto asciutto ma non importa posso comunque continuare a lavorare spolvero il glitter in eccesso qui c'è una macchia di colla ma non importa la pulirò dopo pongo la mia pallina su un qualcosa che la faccia stare ben ferma prendo il pennellino sottile è un po di vinavil e col mio pennellino super sottile ripasso su tutta l'iniziale quando tutto sarà preso dal glitter prendiamo un cartoncino il glitter del colore con cui vogliamo crea creare il contrasto è dolcemente versiamo lo lasciamo asciugare bene e solo dopo spennelliamo il tutto attendete due minuti dopo circa mezz'oretta credo che la nostra iniziale sarà asciutta con un pennello molto morbido elimino l'eccesso così di glitter quello che non ha aderito alla pallina voilà guardate che bella l'iniziale troppo bella però effettivamente soltanto l'iniziale su tutta la pallina mi sembra un po scarna ora che ce l'ho davanti farei tutto attorno una sorta di coroncina per evidenziare lo spirito del natale quindi decido di arricchirla metto qui dell'altra vinavil con qualche decorazione fatta con un dotter e dei puntini vi faccio vedere allora comincio 1 e 2 a croce andare così a croce mi permette di essere precisa pur senza prendere compassi mi misure tutto molto ad occhio sempre una cosa artigianale è e poi un po a fantasia riempio tutto attorno in maniera un po disordinata ma sempre mettendomi in mezzo tra due pallini ok a questo punto riprendiamo il glitter e sempre delicatamente versiamolo su tutti i può qui rimango più abbondante e aspetto un'altra mezz'oretta a questo punto dovrebbe essere tutto ben bene asciutto con un pennello super morbido e ragazzi spolveriamo perché i pallini sono subdoli essendo molta colla quella che si concentra nel pallino può rimanere qualche residuo umido e se siete troppo bruschi col pennello potete fare un guaio adesso guardiamo bene com'è venuta già così è molto bella ma da vicino si vede che qualche pallino si è unito allora ancora che non è del tutto vedete asciutto con un bulino meglio si appunta il mio appunta tonda comunque ripuliamo vedete i pallini e rendiamoli tondeggianti lì dove magari si sono uniti due pallini o dove si è persa la forma e voilà una volta ripulita tutta dobbiamo fare solo una cosa con la vinavil che era rimasta nel piattino ed il pennellino dobbiamo semplicemente tamponare sopra le parti glitterata non vi preoccupate diventerà dopo nuovamente trasparente questo servirà per fare rimanere i glitter fermi per sempre nella loro posizione attuale bene non vi tengo qui con me ad assicurare ogni puntino mi dico soltanto che passerò la colla su ogni singolo puntino rosso e dopodiché lascerò asciugare solo alla fine quando sarà tutto asciutto infilerò adesso ve lo faccio vedere il perno metterò magari un fiocchetto rosso per abbedire il tutto è la pallina sarà bella e pronta che ne dite vi lascio alle foto e noi ci vediamo subito dopo buona preparazione al natale ciao 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 ciao